Mi fido qua Qua c'è un trappolone sicuro Il trappolone E il trappolone E l'unico frutto della madonna Raga ma questi qua da dove provengono Porco zio Adesso Adesso facciamo una cosa Questo con il krig raga Adesso facciamo una roba Che due palle raga Si può stare più tranquilli Cazzo What's up guys Quel vostro naked che mi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video Signor miei È nato tutto da quella clip che avete visto all'inizio Perché ero Sconvolto Un'arma che veramente Mi ero quasi dimenticato dell'esistenza Effettivamente Non pensavo più Neanche fosse nell'arma dietro Pensavo veramente L'avessero Anientata Quest'arma Invece Invece L'ho riprovata E ho detto Porco doddo E beh sì perché mischia La super facilità di utilizzo Ha un buon recoil E a Danno Beh Chiamare danno elevato Quest'arma è un po' esagerato Come giusto che sia D'altronde Anche perché Non so se vi ricordate Il tempo quando era Meta Aveva anche un bel danno Mischiato appunto Al fatto che non ha Minimamente Rinculo Perché non ha minimamente Rinculo quest'arma E ovviamente adesso Essendo un pochino Meno forte A livello di danno Compiete la grande Con le Con gli assalto Di Vanguardio È stata ovviamente Una scoperta Raga Non sto qua a raccontarvi La build Perché è sempre quella L'ultima canna Il senso Ragensy L'axial amber 3 45 con colpi E il feed target Però vi posso Dire Vi posso anzi Garantire Che nel momento in cui Andate a riprovare Trovate subito Il bel feeling Proprio perché Penso che Beno male tutti L'abbiamo usata Al tempo E Comunque sia Anche nel momento in cui È tanto tempo Che non la si Utilizza Col fatto che Sarà stra facile Da usare Ritornerete A spaccare I deretani In modo Very Very Fast Quindi ragazzoni belli Che dire Lasciate un like E l'iscrizione Al canalone Del Naked Ones Noi Ci vediamo Domani Con il prossimo video Bella Aditele Grande Wolfones Siamo Mk una sera Mamma mia bro Lascia perdere Non lo posso più sentire Quel cazzo di ruggito Di più delle volte Mi chiama Tolgo l'audio di gioco Che mi fa venire Porco zio 8 e 2 C'ho lanciato Come sta piovendo Ma va Minchia in Grecia Piove Tre volte l'anno Tipo Porco 2 Che sfortuna Mamma mia raga Che palle Pezzi porco Morire così Madonna Che è guerito Questo qua E vaffanculo Ma dove cazzo Mi sta sparando Tutti Raga Dio cantante Guarda questo dov'è Guarda Guardalo Guarda sto rincoglionito Dov'è Godo Era lui Era lui Jonas Dio caro Indiana Jonas Porco dios Che camper Vendetta Vendetta vera Non finirò in galera Che rumore ha fatto Che vero si ha fatto Ho seduto Da un gatto Questo qua Sì ma che due palle Raga Minchia Si può più stare Più tranquilli Cazzo Mi sa prendersi le piastre Grigone Porco zio Vabbè fra Minchia Sono nato ieri Cazzo Questo era sulla torre Il castones No no Chiedetemi da dove Il cast Vi raggiunge Arrivo C'è una nuova zona Sicura Adesso sei negli ultimi dieci Oh Andato Ad appareggiare Fatto bene Jonas Sta appareggiando Anche qua Col birrone Forse Vesco L'albero Tutti i proiettili Mi ha bloccato Tutti Tutti quanti Eh fra Non ti posso sicuramente Lasciarli in vita C'ho rischiato qua Siamo sulla nave Ora cuorelo VAMOLO Dove cazzo è il mio contratto? Oh!